Un cordiale saluto ad una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per materiali dispersi e rallentamenti tra Barberino e Calenzano in direzione Roma. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze ci sono code tra Sesto Fiorentino e Firenze e Peritola e code a tratti tra Prato Ovest e il Vibrio per la 1. Sulla Fipili in direzione Mare e code in uscita a Lastra Assigna e a Santa Croce in direzione Firenze e code a tratti tra Lastra Assigna e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita Greve e Inchianti. La viabilità cittadina a Firenze per scavo urgente via del Campuccio è chiusa tra Piazza Tasso e via dei Serragli. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!